Torna al Teatro Petruzzelli l'Opera Ragazzi, uno dei momenti più attesi dal giovane pubblico e pronta a riconquistare gli spettatori della fondazione. Ad andare in scena dal 19 al 26 maggio Robin Hood fra incontri di mattina e recite pomeridiane con uno staff creativo di livello. Lo spettacolo avrà la musica del compositore Michele Dallongaro e il libretto di Vincenzo De Vivo. Dirigerà l'orchestra e il coro del teatro Pietro Mianiti, regia dell'olandese Marcel Sim. Soddisfacente l'esito e la partecipazione dei ragazzi al debutto, così si esprime il pianista Nicola Piovani. Robin Hood l'ho visto ieri, mi sono entusiasmato per il lavoro che ha fatto Dallongaro, il lavoro che ha fatto De Vivo, il lavoro che ha fatto il regista e mi sono entusiasmato per il pubblico. Ho visto cosa si può fare, insomma io vengo da una generazione in cui ci portavano a teatro per la prima volta nella vita, nelle scuole e quella prima volta spesso era anche l'ultima perché erano tre ore di noia micidiale, perché non avevamo gli arnesi per capire, per entrare dentro a capolavori come Brecht. Invece secondo me una rappresentazione così, una manifestazione così potrà indurre molti ragazzi a capire che il teatro, la cultura, la musica sono cose bellissime e divertenti. Grazie. Grazie a tutti.